Il cammino dell'Europa verso la transizione energetica non è di certo una strada in discesa o priva di ostacoli. Per questo una soluzione come quella trovata da Enea e Politecnico di Torino potrebbe aiutare, e non poco in particolare, le tante piccole isole sparse per il continente, dove la fornitura di elettricità è garantita da costose inquinanti centrali a gasolio. Il PEWEC 2.0 è un sistema galleggiante che, messo in mare aperto, può produrre energia elettrica, sfruttando l'oscillazione del dispositivo per effetto delle onde. Il PEWEC nasce anche in risposta alla richiesta dell'Europa di poter essere sempre più autonomi nella generazione di energia e nello stesso tempo di creare energia pulita, quindi energia green che non produce CO2. Quindi il PEWEC rientra sicuramente tra quelle tecnologie che nel futuro potranno condurre l'Europa verso la transizione energetica. Il PEWEC, il cui prototipo è stato testato nella vasca navale di Napoli, è un sistema low cost e competitivo rispetto ad altre tecnologie rinnovabili.